La questione degli incarichi per 640.000 euro affidati con determina dello scorso 26 giugno dall'amministrazione uscente a ballottaggio vinto dal centrodestra di Adriana Polibortone è emersa nella seduta consigliare di oggi su intervento del consigliere Carlo Salvemini che ha voluto fare le sue puntualizzazioni. Ma immediata è arrivata la replica del sindaco Adriana Polibortone che su quella determina vuole vederci chiaro. È venuta fuori qualche piccola polemica ma naturalmente è chiaro che da parte della maggioranza come della minoranza ci siano dei punti di vista completamente differenti. In particolare ho ricordato il problema di una determina di 20 persone che secondo me era assolutamente inopportuna fatta quando il sindaco precedente aveva già votato la sua stanza il giorno 25 e il 26 è venuto fuori questa determina di 20 persone che peraltro credo che non lavoreranno neanche perché sono tutti dei dipendenti ma comunque stiamo verificando.